Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Era atteso per Natale, così è stato anche ad Arezzo il picco dell'influenza. Sono così giornate di lavoro intenso per i sanitari dell'emergenza, urgenza alle prese con l'influenza, ma ancora anche con il Covid. Tra il Covid che ancora sta circolando, l'influenza australiana e altri virus che si stanno diffondendo nella popolazione, complici anche le festività natalizie con parenti e amici che ovviamente si ritrovano, si rischia un po' la tempesta perfetta, dicono gli infettivologi appunto sul fronte della diffusione di questi virus. In effetti sul fronte proprio degli interventi dell'emergenza e urgenza c'è stato un picco. Sì, c'è in questo periodo appunto la sommatoria di più patologie, quindi soprattutto respiratorie infettive, quindi sì, diciamo il carico di lavoro c'è stato più che altro per febbre e anche per problemi respiratori, insomma sul discorso Covid e non. Quindi vi sono capitati anche pazienti possibilmente positivi che sapevate già o che avete scoperto in corso? Sì, qualcuno c'è sempre comunque che magari ha bisogno di un ricovero di accertamenti e quindi sì, alcuni sì, però più che altro anche per patologie diciamo extra Covid ecco, sì. Insomma l'influenza e il Covid? Si fanno sentire, sì, sì, l'abbiamo sentite. Come stanno andando ecco questi giorni ovviamente di festa, voi siete al lavoro, l'abbiamo raccontato tante volte, il vostro è un mestiere davvero particolare, ma che fate insomma con tanta dedizione? Sì, lo facciamo per scelta, quindi insomma ci prendiamo poi tutto quello che ne consegue, insomma quindi anche lavorare nei giorni festivi in condizioni comunque più diciamo di stress, di carico di lavoro, sì. C'è un consiglio che volete dare alla popolazione che magari compone il 112 per una qualsiasi emergenza, dall'altro capo trova voi, qual è il comportamento più corretto? Allora, quello che noi riscontriamo spesso e volentieri è che la sensazione magari delle domande che facciamo noi anche in sede di accolta della chiamata, che sia un po' una perdita di tempo il fare tutte le chiamate, cioè tutte le domande insomma durante la chiamata. In realtà serve a noi per mandare comunque il mezzo più appropriato per quel particolare tipo di situazione, quindi sì, questo sì. Quindi stare più calmi possibili e seguire chi è dall'altro capo del telefono? Si capisce insomma la citazione e la concitazione del momento, però lo facciamo comunque per una motivazione che è sicuramente a tutela del chiamante, ecco sì. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Una 34enne casentinese è stata condannata ad otto mesi di reclusione per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Vediamo perché. Avrebbe fatto oltre 300 telefonate all'Enel per segnalare un guasso non riscontrato dai tecnici e avrebbe allertato i vigili del fuoco per una fuga di gas poi non rilevata. Per questo una donna 34enne del Casentino è finita a processo per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme ed è stata condannata dal tribunale di Arezzo ad otto mesi di reclusione. Il processo si è concluso lo scorso venerdì e secondo quanto ricostruito in aura la donna dal luglio 2020 al gennaio 2021 avrebbe chiamato 333 volte a Enel segnalando un guasso all'illuminazione pubblica. Le telefonate per 162 volte avrebbero provocato l'intervento di una squadra sul posto per verificare il guasso che però non sarebbe stato rilevato concludendo le uscite con esito negativo e constatando la regolarità dell'illuminazione. Nel luglio 2020 la donna poi avrebbe chiamato anche per una fuga di gas ai vigili del fuoco che però sul posto non avrebbero riscontrato alcun problema. Denunciata la 34enne adesso ha affrontato il processo di fronte al giudice monocratico e sulle accuse di interruzione di pubblico servizio per i guasti segnalati ad Enel e procurato allarme per la richiesta di intervento ai vigili del fuoco è stata condannata. Si avvicina il 2022 del tempo di bilanci vediamo quello della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Beh avevamo già anche a fine 2021 e inizio 2022 segnali di un aumento forte di costi energetici, di materie prime, irreperibilità delle materie prime quindi i dati non erano proprio così positivi. Poi purtroppo la guerra in Ucraina ha davvero fatto precipitare un po' la situazione. Dobbiamo dire che però le nostre imprese, il nostro tessuto economico ha dato dei risultati comunque buoni. Abbiamo i primi dati dei primi nove mesi di esportazione che sono comunque molto positivi e purati ovviamente dal valore legato al costo dell'oro, quindi della produzione di materiali preziosi ma la gioielleria e anche il made in Italy che sta nell'ultimo periodo crescendo quindi sia la parte ovviamente legata alla pelletteria anche ma anche la parte ovviamente moda e la meccanica che sono i tre un po' principali settori che guardano all'esport che stanno dando davvero numeri importanti con crescite a doppia cifra. Quindi tutto sommato nella grande difficoltà con cui le imprese ovviamente operano a cominciare da costi energetici che purtroppo stanno assottigliando i margini e quindi le potenzialità anche poi di investimento delle imprese stesse per quindi per il 2023 ci aspettiamo purtroppo legata anche al costo, all'aumento del costo del denaro ovviamente prezzi che stanno crescendo in generale un momento davvero difficile per le imprese. Ma oggi ancora stanno dimostrando vitalità e segni di dinamismo che devono essere registrati. Scendendo un po' nel dettaglio partiamo dal dato che riguarda l'export a Rezzo in senso globale segna una percentuale comunque sotto la media regionale però andando nel dettaglio come si può leggere questo dato? Sì, il dato dello 0,5% di export nel terzo trimestre va letto alla luce del fatto che il comparto principale cioè quello che fa il 40% del nostro export che sono i metalli preziosi in particolar modo l'oro ha avuto una prosecuzione nella diminuzione dei valori di oro esportato significativa e oltre il 22% e l'altro invece comparto gemello della gioielleria per esempio è andato molto bene e ha registrato un più 25% nel terzo trimestre del 2022 quest'anno rispetto al 2021. Quindi già nell'anno scorso aveva avuto un più 73% devo dire che questo comparto dell'oreficeria ecco vede luci ed ombre ma soprattutto luci per quanto riguarda la vendita della gioielleria e anche l'altro comparto importante che è la moda vede un incremento dell'11% e addirittura nel terzo trimestre oltre il 30% quindi significa che il comparto manifatturiero che è caratterizzato da queste due specializzazioni produttive ad Arezzo va bene. Ovviamente non ripeto rispetto al resto della Toscana abbiamo dei volumi inferiori perché i metalli preziosi purtroppo continua questa discesa e che in termini di volumi di oro esportato risulta inferiore e naturalmente non possiamo dire che questo è dovuto anche a oscillazione del prezzo dell'oro perché il prezzo dell'oro ultimamente è aumentato del 14% di oltre il 14% quindi è proprio un dato significativo relativo al fatto che metalli preziosi ne abbiamo esportati meno. E tempo anche di presepi oggi seconda uscita per il presepe vivente a Castiglion Fiorentino dove per la prima uscita erano arrivate ben 2500 persone. Seconda uscita anche per quello di Oliveto alla presenza anche del vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca. Per ordine dell'imperatore Caio Giulio Cesare Augusto e del governatore Publio Sulficio Quirino Tutti i cittadini della provincia di Giudea dovranno recarsi nella loro città di origine per farsi censire. Detti cittadini dovranno dichiarare nome, età, residenza attuale, il numero dei membri della famiglia che abitano sotto lo stesso tetto e il lavoro svolto. Dovranno inoltre fornire una stima esatta dei bestiame e delle piante in loro possesso. Una giornata di festa e condivisione quella ad Oliveto, piccolo borgo della Valdichiana a Retina dove è tornato per la sua seconda uscita il presepe vivente oggi con la visita anche del nuovo vescovo Andrea Migliavacca. Anzitutto è un bellissimo borgo Oliveto, non ero mai stato e è davvero suggestivo tra queste nostre colline toscane quindi davvero bello e poi con la rappresentazione del presepe vivente con le famiglie, i bambini, le varie arti che sono qui rappresentate crea un ambiente molto evocativo, molto significativo nel parlarci e nel farci vivere il Natale perché questa notizia del Natale che è un annuncio, lì dove siamo aiutati a entrarne come parte, a viverlo e questo luogo ci aiuta, ci rende ancora più vivo, più vero, tocca di più il cuore questo annuncio natalizio e quindi davvero bello e complimenti per chi lo ha realizzato, ideato e per chi sta rappresentando qui le varie scene. La manifestazione ha dovuto restringere il percorso che si snoda nelle suggestive strade del paese per via del crollo della facciata della chiesa avvenuto mesi fa e ancora non restaurata un evento del quale il nuovo vescovo è stato informato e per il quale la parrocchia si sta impegnando affinché la chiesa torni al suo antico splendore. Il ricavato del presepe infatti servirà a contribuire proprio alla ricostruzione così come altre iniziative. Abbiamo un percorso alternativo rispetto agli anni passati perché abbiamo dovuto studiare in base alle esigenze e le sicurezze che sono state necessarie dopo il crollo della facciata però siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto quest'anno. Un'intera comunità che si mobilita, mestieri ricostruiti, una natività decisamente originale anzi è davvero attenta poi ai tempi moderni e all'integrazione, insomma tanto lavoro dietro però. Sì, un lavoro che richiede tempo, collaborazione da parte di tante persone e affiatamento nel gruppo paese ma andiamo anche fuori paese perché tanti amici ci seguono con affetto e ci danno una mano. Una comunità insomma che ogni anno si ritrova in questa manifestazione che richiama fedeli da tutta la Valdichiana Aretina. Sì, una manifestazione bellissima ormai da alcuni anni, due date nel periodo di dicembre il presepe vivente a Oliveto in uno dei posti più belli del nostro comune e tante tante persone che ci mettono cuore per fare questo bellissimo evento. Oggi ultimo giorno dei mercatini tirolesi nel cuore del centro storico Aretino che chiudono segnando numeri record. Obiettivo più che centrato anche quest'anno per la città di Natale ad Arezzo che saluta il 26 dicembre il mercatino tirolese in Piazza Grande e la casa di Babbo Natale mentre tutte le iniziative al Prato con la Fortezza delle Meraviglie, la Ruota e tutte le altre attrazioni andranno avanti fino al 6 gennaio così come i mercatini di Natale di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento. Le presenze hanno raggiunto quota un milione nonostante il maltempo si sia messo a volte di traverso. L'idea insomma di posizionare a metà dello stivale un mercatino tirolese funziona e come. Prima per respirare e vivere la magia del Natale i turisti non avevano che da arrivare a Trento o Bolzano adesso ci si può fermare ad Arezzo. Ma per chi ancora non avesse visitato parte di queste meraviglie non c'è da preoccuparsi. C'è tempo fino all'Epifania per visitare il Prato con la grande ruota panoramica per gustare una cioccolata calda all'ombra della statua di Francesco Petrarca e per immergersi nella Fortezza Medicia, oggi Fortezza delle Meraviglie, che è già meravigliosa di suo senza la magia del Natale, figuriamoci adesso. Il prossimo fine settimana, quello del Capodanno e quello del 6 gennaio, promettono bene ancora per il tutto esaurito. Sentiamo adesso il messaggio di Natale di Don Alvaro Bardelli, il parroco della Pieve. Un momento importante quando si avvicina a Natale. Diciamo che finalmente forse possiamo respirare un momento di vita migliore tutti assieme. Però insomma i problemi sono tanti Don Alvaro. Soprattutto per tante persone che in questo momento non possono vivere in pace come viviamo noi, nella serenità. Allora il pensiero proprio per chi in questo momento sente ancora i disagi della Santa Famiglia, come duemila anni fa quando sono venuti a Betremme Giuseppe e Maria. In tante parti del mondo ancora davvero c'è fame, c'è miseria, c'è debolezza, c'è paura, c'è tristezza, c'è freddo. Ecco, allora noi che siamo da questo punto di vista un po' più fortunati, ecco cerchiamo di non dimenticarci di chi non è fortunato come noi. Comunque di vivere con gratitudine questo momento importante, ricordarci che siamo fortunati, che c'è una speranza per tutto e che anche quest'anno risuonerà il canto degli angeli. Vi annuncio una grande gioia, è nato per voi il Salvatore. Questo dobbiamo ricordarcelo nelle difficoltà della vita, c'è sempre questa luce, questa speranza, questa stella che brilla, il Signore Gesù che è il nostro Salvatore. Allora l'augurio è proprio che possiamo riscaldarci a questa luce e illuminarci a questa luce. Ecco il senso dell'augurio che faccio ad Arezzo TV, a tutti quelli che seguono questa importante e bella televisione, mezzo di comunicazione e di vicinanza, un modo anche per sentirci ancora più uniti. Buon Natale a tutti voi. A Monte San Savino un insolito albero allestito dalla Polizia Municipale. Quando guidi pensa a chi ti ama, perché se ti rispetti le regole è un modo sicuro per vivere e per tornare a casa da chi ti ama e dai tuoi cari. Al posto delle palle dei cartelli che esortano a mantenere un corretto comportamento stradale, al posto del puntale invece una paletta a Monte San Savino. È stato così allestito un insolito albero di Natale fatto di cartelli stradali. Volevamo augurare in modo educativo buone feste a tutti i nostri cittadini e anche ai turisti che vengono a visitare la nostra città. L'albero di Natale, pensato e realizzato dalla Polizia Municipale di Monte San Savino, si trova a lungo corso Sangallo, proprio accanto alla sede del comando nel centro storico. Ci sono consigli sulle regole da seguire per le norme del codice della strada, quindi di rispettare i colori del semaforo, di raccogliere le dedizioni dei cani che a volte ci creano problemi per le strade del nostro comune, quindi un incitamento all'educazione nei confronti di questo problema. Poi ci sono messaggi su che cos'è la protezione civile, quindi prevenzione, primo soccorso e informazione alla cittadinanza, il rispetto dei pedoni, quindi degli utenti più deboli del codice della strada e quindi in generale tutte le norme per la sicurezza degli utenti della strada. Insomma, l'albero di Natale può diventare anche uno strumento di educazione stradale. Sfruttare un evento, diciamo, di festa, anche per dare degli insegnamenti, dei messaggi e delle indicazioni. A riguardo però vorrei sottolineare che Monte San Savino ha queste sensibilità. Infatti, oltre che l'albero di Natale, vedete che sotto le loggie dei mercanti vi è un presepe, un presepe fatto da tutti gli anziani della nostra casa di riposo, insieme a altri anziani di altre case di riposo limitrofe, proprio per dare un segnale che anche gli anziani partecipano e hanno fatto qualcosa visibile e apprezzabile. A Castiglion Fibocchi è stato il sindaco in persona a portare gli auguri e il regalo da parte dell'amministrazione ai cittadini più anziani. Come negli scorsi anni, infatti, ma anche per questo Natale, l'amministrazione comunale ha voluto mangiare con un pacco di Natale tutti i cittadini over a 90 residenti nel piccolo borgo. Il sindaco Marco Ermini, assieme agli assessori e consiglieri, casa dopo casa, ha così portato il saluto e consegnato un piccolo regalo contenente l'olio d'oliva prodotto dagli olivi del territorio. Ed è stato un dolce Natale anche alla casa di riposo Fossombroni. Le festività, infatti, sono state arricchite da un rinnovato moto di generosità nei confronti dello storico istituto Aretino. Tante le realtà che hanno dimostrato vicinanza a ospiti e operatori attraverso donazioni e visite. Questa rete di solidarietà ha contribuito all'atmosfera di condivisione, gioia e serenità vissuta dai residenti nel periodo natalizio, andando a ribadire lo stretto legame tra la cata di riposo e il tessuto cittadino. Tra i momenti più attesi è rientrata la tradizionale visita del quartiere di Porta del Poro alla vigilia di Natale. Parliamo di tradizioni culinarie ed andiamo a scoprire come si fanno i cavallucci. Il cavalluccio è un prodotto della tradizione che ancora oggi batte forte nei nostri cuori, soprattutto il mio e mio fratello. Quando eravamo piccolini, già 4-5 anni con la nonna Pierina, andavamo a fare i cavallucci, era un momento poetico perché vedere sciogliere lo zucchero, mettere dentro gli ingredienti, sfornare i cavallucci, prenderli in mano, sbatterli dalla farina, poi dopo qualche ora imbustarli era una giornata memorabile. Più che un prodotto natalizio, il cavalluccio per Menchetti è famiglia, guai a toccare la ricetta originale. Abbiamo la fortuna di preservare tutto quello che ci è stato trasferito. Ci sono delle cose che non possono essere modificate. Il cavalluccio viene fatto nelle stesse identiche maniere come prima. Farina, canditi non trattati con l'anidride solforosa, noci, spezie. Il segreto, se vogliamo dirlo, ho un ricordo vivo ancora oggi della cottura dello zucchero. Mia nonna prendeva lo zucchero, lo girava con il mestolino e poi lo prendeva su due dita. Allungando le due dita vedeva quanto filo faceva e a quel punto era un momento buono di prendere lo zucchero. Poi questo impasto ci spiegava va lavorato subito, altrimenti si rovina. Esatto, perché lo zucchero è caldo. Finché è caldo lavori l'impasto, dopo mezz'ora che lo zucchero inizia a tirare non riesce più a lavorare il cavalluccio. È un prodotto chiaramente che non va consumato caldo, anzi si apprezza un mese, due mesi, anche tre mesi dopo la sua sfornata. Un prodotto che oggi si consuma solo durante le feste di Natale, ma che i nostri nonni conservavano nel tempo. Chiaramente è un prodotto ricco di frutta secca, ricco di spezie con il zucchero, paradossalmente nel tempo acquista valore e profumo. C'è una regola però per rispettare la tradizione. Quindi ricordiamo il cavalluccio non si taglia ma si spezza con le mani. Assolutamente. Passiamo alla pagina dello sport. La fase regionale di Coppa Brema ha chiuso il 2022 di gare della Chimera Nuoto. La manifestazione valida come qualificazione per i futuri campioni italiani a squadre dalla 1 alla B è stata ospitata dalla piscina di Livorno ed era riservata alla categoria assoluti con la società retina che è scesa in basca, con 9 atleti del settore giovanile che si sono messi alla prova contro avversari più grandi ed esperti. Il bilancio complessivo è positivo con una medaglia di bronzo di Matteo Vasari nei 200 misti con tanti positivi piazzamenti e con significativi miglioramenti cronometrici che hanno contribuito all'ottavo posto nella classifica generale maschile e al dodicesimo nella classifica generale femminile tra tutte le società della Toscana. Il 30 dicembre invece alle 21 torna la tombola di Orgoglio a Maranto grazie all'ospitalità del quartiere di Porta Santo Spirito che ha messo a disposizione la propria sala nella sede dei Bastioni. La tombola avrà in palio gadget a Maranto, merchandising del comitato e premi enogastronomici. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.